La Lombardia che sia sempre più terra delle libertà, terra del trionfo della persona, dove la politica fa spazio al primato della voce. Formigori ha dato 15 anni di benessere alla Lombardia come l'Italia non ha avuto. Altri cinque anni possono cambiare il senso della politica veramente in Lombardia. Perché è il Presidente che garantisce al meglio di tutti la libertà del nostro Paese e della nostra regione. Forza Roberto, siamo tutti contenti. Per costruire insieme questa Lombardia e in prospettiva questa Italia, questa è, ripeto, la causa per cui ho accettato con grande entusiasmo di rimettermi in gioco per la quarta volta e per cui voglio continuare a spendermi, sapendo come polizza di sicurezza che ho tanta gente come voi dalla mia parte. Grazie!